Tre punti pesanti quelli conquistati contro il Nereto da un Castelfidardo in piena corsa per restare agganciato al treno dei play-out. 3-0 maturato nella ripresa per i fidardensi che hanno faticato non poco nella prima parte della gara, con Perkovic in difficoltà per Bianche di una giornata tipicamente estiva e temperatura elevata. Il Nereto, retrocesso da tempo, ha giocato soprattutto per l'onore. Va detto che nei primi 45 minuti la formazione di Federico Delgrosso, scesa in campo con ben 7 under, ha tenuto botta agli avversari. Certo, non è che abbia spaventato più di tanto i padroni di casa, ma Boito, in più di una circostanza, ha provato a regalarsi una giornata diversa dal solito. La truppa marchigiana avrebbe potuto segnare un paio di reti già nel primo tempo. Al decimo, su angolo di Bracciatelli, Baraboglia manca il bersaglio, poi è bravo De Luca a chiudere su Braconi. La fiammata di Boito al 26esimo meriterebbe un finale migliore, il tiro del numero 10 del Nereto finisce a lato. Mister Piccioni invita i suoi ragazzi ad avere calma perché prima o poi il gol arriverà, ma la porta di De Luca sembra stregata. Il tecnico di casa intuisce che Perkovic non è in giornata e così ad inizio ripresa gli affianca Camarà, che sarà il protagonista assoluto della vittoria del Castelfidardo. La manovra offensiva dei marchigiani ci guadagna, Bracciatelli al terzo colpisce l'esterno del palo. La partita si sblocca al quarto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Cusimano va profondo per Camarà che va immediatamente al tiro. La sfera si stampa sul palo e finisce poi sui piedi di Braconi che con un po' di fortuna riesce a spingere in fondo al sacco. E' un gol liberatorio per il Castelfidardo che però deve mettere al sicuro il risultato perché il Nereto non ha alcuna intenzione di essere la vittima sacrificale. Quanto meno se la vuole giocare sino al termine, al ventesimo. Boito spaventa ancora la retroguardia di casa. Nereto che perde palla in fase d'attacco ed è bravo Camarà a far partire il contropiede. Lancio verticale per Cusimano che viene messo giù calcio di rigore che lo stesso Camarà trasformerà mettendo in ghiacciaia il risultato. Nel finale l'attaccante Fidardense firmerà la doppietta personale colpendo la difesa vibratiana sguarnita. E adesso la trasferta di Fiuggi per i biancoverdi che devono solo vincere per essere certi di andare a disputare lo spareggio salvezza.